La fotografia ha un potere fondamentale rispetto a tutti gli altri tipi di giornalismo sia in video che scritto perché gli articoli vanno letti e le immagini in video sono sfuggenti secondo me rimangono relegate a quel tg che tu stai guardando a quella cosa e poi dopo l'hai vista e non la prendi finché non riguarderai un nuovo tg. La fotografia te la ritrovi, te la ritrovi stampata su carta, la riguardi quante volte vuoi, te la ritrovi in una mostra, te la ritrovi in un manifesto te la riguardi e quindi è estremamente più comunicativa. Il potenziale dell'immagine è talmente elevato che ha cambiato la storia politica di alcuni paesi o ha sensibilizzato l'opinione pubblica come nessun altro tipo di immagine in movimento o di articolo scritto può aver fatto. Non a caso la fotografia del bambino trovato morto sulla spiaggia ha cambiato comunque il movimento dell'Unione Europea nei confronti delle migrazioni. 500 persone fotografate su una barca dopo anni di reportage sui migranti, una foto iconica in pianta ortogonale. La cosa quasi incoerente di questa immagine è che questi migranti a bordo della barca guardano sorridendo, guardano con uno sguardo di speranza e quindi non sono fotografie di sofferenza ma è una fotografia di speranza collegiale di 500 persone che spontaneamente hanno ciascuno questa espressione e quindi il valore comunicativo di un dramma con una espressione di speranza secondo me è molto iconografico e significativo. Grazie. 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 Grazie.